benvenuti guardate che bella offerta alle mie spalle nonostante ci troviamo alla fine della stagione dei camper noi alla grosso vacanze abbiamo ancora in pronta consegna un benimar sport 340 app il veicolo prodotto dalla famosa casa spagnola super equipaggiato parliamo della veranda già montata dell'antenna terrestre con la tv da 19 pollici integrata dei sensori di parcheggio del climatizzatore motore della radio ford con comandi al volante e della meccanica ford maggiorata 170 cavalli all'interno il veicolo si presenta con una dinetta delle con sedili girevoli una mansarda extra large e posteriormente un letto matrimoniale sali e scendi che posa su un comodo garage e un letto singolo sempre basculante in questo caso elettricamente che va a scomparso sopra il tetto naturalmente come su tutti i veicoli benimar bagno e doccia separata cucina a tre fuochi con lavello e frigo 140 litri trivalente automatico il prezzo è unico 49.900 euro su strada comprensivo di tutti gli optional che vi ho elencato venite a visionarlo